Musica Buonasera, una buona domenica a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È stata una settimana molto intensa, dunque ripercorriamo insieme i fatti più importanti. Musica La vera ragione resterà probabilmente un mistero. Difficile anche solo immaginare cosa sia scattato nella mente sconvolta dalla malattia di Cristiana Corbetto, 52 anni, omicida della madre ottantenne Giuseppina Baiano, il cui corpo senza vita è rimasto per 24 ore nascosto sotto il letto in un sacco delle immondizie. Le due abitavano in questa villetta isolata nel comune di Salzano, a trovare il cadavere con ferite di coltello alla gola i carabinieri di Noale, allertati dalla telefonata di un vicino preoccupato. Non lo sopportavo più, avrebbe detto la figlia al magistrato, confessando il suo crimine in mezzo a una serie di frasi sconnesse. Nel vicinato il sentimento predominante è la pietà, tanto per la vittima quanto per l'autrice, di un gesto in qualche modo atteso. Era una cosa annunciata perché persone che ha problemi così, è stato pensato bene di chiudere i manicomi, però si seguì giornalmente ma non si sa mai quando si scatena i suoi problemi. Quindi voi vicini ve lo aspettavate? Anni fa Poretta camminava per i campi, seminuda, aveva problemi, poi Poretta febbra caffa, febbra pena, perché sono gli esseri umani e così. Secondo il racconto dei vicini, i litigi tra le due donne erano all'ordine del giorno. Il marito e padre era morto da molti anni. L'anziana aveva qualche acciacco legato all'età. La figlia era seguita dai medici per gravi problemi psichiatrici. Qualcosa non ha funzionato, osserva il sindaco di Salzano Alessandro Quaresimin. Impossibile sapere cosa scatta in certi momenti nella mente di una persona, ma l'accaduto impone comunque una riflessione. Noi come amministrazione comunale i servizi sociali non conoscevano il caso. So che era in cura il CIM, il centro di igiene mentale dell'Ulsa 13, da parecchio tempo, però direi che chiaramente è una sconfitta per tutti. Io abito a Padova, per esempio, e lì lo uso tutti i giorni, funziona molto bene. È un peccato vedere invece che qua non funziona. Ne resterà soltanto una, le Highlander a due ruote del comune di Venezia. Il bike sharing non funziona. Le poche biciclette rimaste a disposizione dei cittadini sono inutilizzabili. Qui in Marghera, in piazza Mercato, manca la ruota. All'imbocco del sottopasso ferroviario, invece, qualcuno ha pensato bene di portarsi via la sella. Vandali e ladri non risparmiano le stazioni e così usufruire del servizio diventa quasi impossibile. È l'inciviltà di alcuni nostri cittadini che si divertono a fare i vandali. E purtroppo sono più di quanti pensiamo o più vandali di quanto pensiamo. Ma ci sarebbe una soluzione. Basta prendere qualche spunto dall'estero. Ce ne sono che funzionano. Parigi, Valencia, Londra, le grandi città, ad esempio, hanno un sistema diverso in cui c'è un'alleanza pubblico-privato per far funzionare il bike sharing. Il privato si fa carico di far funzionare il bike sharing più corrispondere a un canone del comune in cambio degli spazi pubblicitari, ad esempio. È un sistema che funziona in cui il privato si assume l'onere e i costi di far funzionare il servizio e il comune non ha l'obbligo né il costo, purtroppo il costo di rimediare a vandali e danni e furti, ma il privato gestisce il servizio e spesso lo fa meglio nelle amministrazioni pubbliche. Se avessimo la vigneta, quindi il tagliandino da mettere sul bar a brezza, potremmo pagare tutti e poco. Il che significherebbe che l'impatto del pedaggio autostradale sarebbe ridotto a poco, a quasi nulla. Come accade ad esempio in Austria, tanto per citare un paese. Oggi ovviamente ragioniamo con dei gestori autostradali che hanno delle concessioni da 30-40 anni che fanno un po' il bello e brutto tempo. La soluzione ci sarebbe, il pedaggio costerebbe per tutti poche decine di euro all'anno, ma non può essere applicata a causa del sistema delle concessioni autostradali. Il governatore Luca Zaia torna sul tema degli aumenti tariffari sulla 4 e sul passante di Mestre, invitando i suoi critici a reindirizzare i propri malumori ai palazzi romani. Nel frattempo CAV sta valutando su mandato della regione alcune possibilità per garantire ulteriori sconti ai pendolari della Padova Mestre, ma senza un allungamento della concessione da 23-40 anni sembra che i margini di manovra per una simile operazione siano ridotti se non inesistenti. Dico soprattutto a quelli che ci contestano che se gli dà tanto fastidio quello che stiamo facendo, visto che sono tutti rappresentanti del governo di Roma, vadano dai loro capi a Roma, dai loro ministri, dai loro parlamentari e dicano fate le autostrade gratis per tutti. Noi paghiamo talmente tante tasse, 21 miliardi all'anno, che ci meritiamo le strade gratis. Prima cosa. Seconda cosa, siamo una società tipica perché è una società pubblica, un concessionario pubblico, che ha una concessione di soli 22-23 anni, contro i 40 anni che hanno molti. Quindi già diluendo, raddoppiando il numero degli anni, riusciamo a diluire il peso del pedaggio. Rimandata definitivamente al governo la questione dei pedaggi sulla 4, con la richiesta di aumentare la durata della concessione in modo da poter operare sconti sulle tariffe, il governatore Luca Zai apre un nuovo fronte di polemica sugli 80 profughi di Lampedusa in arrivo a Jesolo. Il tema è un tema che compete direttamente al sindaco. Se io fossi sindaco direi di no. È inaccettabile che la soluzione di questi problemi continui a essere in capo alle nostre comunità, si inalbera il governatore. Si tratta di temi che dovrebbero essere affrontati a livello europeo. L'Europa considera Lampedusa il confine dell'Italia, per noi invece è il confine dell'Europa. È totalmente latitante questa Europa, ha lasciato l'Italia da sola, addirittura è un'Europa che ha saputo anche girarsi dall'altra parte nel momento in cui è stato sospeso Schengen. Ricordiamo che nei periodi peggiori del fenomeno di Lampedusa è accaduto addirittura che la Francia abbia chiuso le frontiere con Schengen approvato. È a dimostrazione che il problema dell'immigrazione non è un problema nostro. Quanto alle ospitalità, direi che noi abbiamo già fatto la nostra parte in passato, la faccia qualcun altro. La politica è fatta di uomini. Gli uomini fanno quello che possono, qualche volta dovrebbero fare quello che devono. Non usa giri di parole il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, e chiede all'intera classe politica di assumersi le proprie responsabilità. Un monito che arriva nel giorno delle dichiarazioni di Zaia sull'ottantina di immigrati lampedusani in arrivo a Jesolo. Se fossi il sindaco non li accetterei, ha detto il presidente del Veneto. Questa la replica di Moraglia. Capisco i disagi, capisco che certe popolazioni siano sotto una pressione maggiore di altre, però sono convinto che la nostra cultura veneta, oltre ad amare la propria identità, e fa bene ad amare la propria identità, sia anche una cultura capace di accogliere. In occasione della presentazione della giornata mondiale dei migrantes, il prossimo 19 gennaio Santa Messa a Mestre, il patriarca è tornato a parlare di Ius Soli. In passato aveva chiesto con forza di non ideologizzare la questione, appello rimasto inascoltato. Lo scontro politico si è già fatto aspro e con le prossime elezioni rischia di essere un tema caldo della campagna elettorale. Il rischio è di politicizzare uno scontro dove poi alla fine chi paga sono delle persone e sono delle persone fragili. Dovrei spendere 80 euro solo di autostrada e ne spendo molto meno di benzina. Hanno fatto già tutti i conti nelle loro tasche di chilometri spesi al litro tra benzina e diesel e tariffe di pedaggio ed ora i sindaci temono l'invasione nelle strade extraurbane. Lei sceglierà la strada dell'interno del paese? Ah, per il momento sì. In certi momenti sei costretto a prenderla. Questa mattina con il ritorno al lavoro e l'apertura della scuola, i primi cittadini della riviera del Brent hanno schierato in campo agenti di polizia, temendo un intasamento del traffico, ma così non è stato. Stamattina che tutti hanno ricominciato non ho visto code, non ho visto per il momento. So che si lamentano, sento che si lamentano, ma non vedo differenze. Prendo sempre l'autostrada comunque. Prendo sempre l'autostrada? Sì, sì. Nonostante questo rincaro? Sì, normalmente sì. Ecco la riviera, traffico sostenuto ma scorrevole dalle 8 di questa mattina. Il risveglio duro potrebbe essere a breve, però quando gli irriducibili delle autostrade faranno i conti a fine mese. Padova d'Olo 2,80 euro, Preganzio al Padova, Via Spinea 3,90 euro, Padova, Barriere di Mestre 3,20 euro. C'è una superstrada che prenderò qua, la Vicenza e Verona. Secondo l'Aescat, associazione delle concessionarie autostradali, sono almeno 895.000 i veicoli che ogni giorno transitano sulle autostrade del Veneto. Anche se solo una piccola parte si riversasse nel traffico urbano, i disagi sarebbero incalcolabili. Sì, però se la scuola è così la tengo a casa mia figlia. Se non c'è sicurezza non è pulito. La mali estremi, estremi rimedi. Le scuole veneziane sono sporche. L'Istituto Colombo a Chirignago, per esempio, non viene pulito dal 20 dicembre. Tutta colpa del nuovo appalto. Il numero di ore è stato tagliato dopo la gara Consip indetta dal governo. Dal 2010 ad oggi abbiamo perso l'80% delle ore lavorative. Alla Santa Barbara, denunciano i genitori, le addette alle pulizie tre anni fa lavoravano per 72 ore la settimana. Oggi solo 24. A livello nazionale l'intero appalto è stato vinto con tagli che arrivano al 45%. Nella migliore delle ipotesi, quando riprendono comunque i servizi, comunque viene garantita la pulizia dei sanitari, cioè dei servizi igienici, una volta alla settimana, tutti i giorni, e la pulizia delle aule, delle mense, per una volta alla settimana. Non è accettabile, insomma. Non ho intenzione di mandare mia figlia all'asilo, se asilo non si dice più in una capanna, invece che in una struttura che dovrà essere garantita. Le pulizie di fondo dovevano essere fatte durante le ferie natalizie. A rientro però i bambini hanno trovato le classi sporche. Poco hanno potuto fare le addette alle pulizie. In più ieri si sono presentate al lavoro le signore delle pulizie, chiedendo cortesemente se c'erano dei mezzi sostitutivi, sempre le scope, gli scopettoni e quant'altro, da parte della scuola. Dove ci sono stati, hanno fatto. Dove non ci sono stati, si dice abbiamo pulito i bagni con acqua. Come un giro in giostra. L'obiettivo dei tassisti era quello di far divertire i turisti che avevano a bordo, molto spesso orientali. Curve mozzafiato, zigzag, virate e sorpassi tra il canale della Giudecca e il bacino della Marittima, una zona trafficata. Le probabilità di un incidente erano alte. 12 tassisti sono finiti nel registro degli indagati per attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici e violazione delle norme del Codice della Navigazione. Due taxi, quelli ripresi in questo filmato mentre si rincorrono davanti a Sacca Fisola, sono stati sequestrati dalla Procura della Repubblica. Sono recidivi. A far scattare l'indagine, la denuncia di alcuni addetti alla raccolta dei rifiuti delle navi da crociera, messi in difficoltà durante il servizio proprio dal moto ondoso provocato da queste gare improvvisate. Capitaneria di Porto e i vigili urbani hanno monitorato la zona con le telecamere da luglio a settembre, raccogliendo immagini definite inequivocabili. Il provvedimento Salva Venezia può ancora vedere la luce. Dopo le voci di un suo affossamento insieme al morto risuscitato nel giro di poche ore decreto Salva Roma, il governo torna ad assicurare i dipendenti del Comune a sperare di salvare i propri stipendi grazie a un intervento fuori tempo massimo di Palazzo Chigi. Mi sono impegnato a parlare con il ministro Saccomanni per vedere cosa è possibile fare perché obiettivamente è un insieme di procedure che hanno penalizzato Venezia e non il modo in cui il Comune di Venezia spende. Rassicurazioni che non convincono fino in fondo il sindaco veneziano Giorgio Orsoni. Le rassicurazioni che ho avuto sempre evidentemente per il momento non sono state sufficienti neanche quelle del Presidente del Consiglio. Tuttavia non tutto è ancora perduto. Io confido molto il Presidente del Consiglio in persona mi ha assicurato che si farà questo provvedimento è un provvedimento che ripeto per l'ennesima volta non è un provvedimento Salva Venezia. Chiamarlo così è impreciso spiega il sindaco molti dei comuni hanno nei loro bilanci alcuni capitoli di spesa che per le loro caratteristiche particolari vengono esclusi dal calcolo del patto in quanto determinano delle storture. Nel nostro bilancio ci sono di queste storture in un bilancio che è ordinariamente equilibrato che è normalmente equilibrato proprio per rimediare a queste storture è previsto questo provvedimento. Il Presidente Daya sicuramente lo sa visto che è stato un camminista a volte che è il Presidente della nostra regione non è che un sindaco può dire sì o no eccetera è il Ministro dell'Interno che decide dove mandarli quanti eccetera quindi un sindaco chiaramente può dire la sua opinione e può in qualche modo manifestare il suo dissenso ma non è sicuramente il mio caso perché ritengo che sia giusto che ognuno di noi faccia la propria parte per aiutare queste persone disperate. Polemica rispedita al mittente Valerio Zoggia non intende ascoltare il Consiglio di Zaia anche perché non può nelle scorse ore il Governatore aveva detto se fossi un primo cittadino i profughi non li ospiterei a Jesolo invece è tutto pronto per l'arrivo dei migranti accolti a braccia aperte a una condizione L'unica cosa che ho chiesto e credo che lo terrò è quella di avere la sicurezza che prima dell'inizio della stagione estiva 2014 saranno dislocati in altri posti Oltre agli 84 di Lampedusa ne arriveranno altri 45 detti dublinanti Derivano da un accordo fatto a Dublino in cui certe persone portatrici di handicap oppure donne incinte oppure giovani orfani o di vecchi anziani in difficoltà devono avere un'assistenza reintegra una società un po' particolare L'arrivo a Mestre alle 6.04 poi si scende nel sottopasso ferroviario per la coincidenza delle 6.10 ma se il treno parte due minuti prima la coincidenza salta I pendolari della linea Quarto Daltino-Venezia-Mestre sono arrabbiati perché sostengono che questo accade ormai da giorni dall'entrata in vigore dell'orario cadenzato Dov'è il beneficio dell'orario cadenzato? Non lo so Qua ci vuole che abbiamo bisogno di treni dal lunedì alla domenica tutti i giorni sia il mattino e sia la sera e sia la notte non pulmini o pulma abbiamo bisogno di treni che funzionano e che siano puntuali Il problema poi non riguarda solo la mattina Alla sera io per uscire dal lavoro io devo chiedere un permesso all'inizio era di un'ora perché per arrivare alle 11 io ho un permesso di un'ora adesso è un'ora e mezza circa e quindi per arrivare qua se esco ai 10 mi devo fare la piede perché i vaporetti non ce ne sono Di qui un appello ai tanti pendolari del Veneto che ogni giorno devono affrontare questi disagi e non solo pur pagando il servizio io invito io invito tutti i pendolari del Veneto a unirsi con noi con i comitati dobbiamo creare un'unione comune con tutti quanti perché dobbiamo mandare via chi ci sta governando che non sono capaci di fare il loro lavoro in attesa dell'approvazione del decreto Salva Venezia cresce la preoccupazione tra i dipendenti comunali di Caffarsetti il mancato rispetto del patto di stabilità secondo il sindaco Orsoni per i mancati introiti derivanti dalla legge speciale determina un clima di tensione tra i lavoratori che potrebbero vedersi tagliare lo stipendio ma il sottosegretario Barretta a Marghera per partecipare ad un convegno sul futuro di Venezia ha rassicurato il sindaco e i cittadini c'è stato un rallentamento legato alle problemi di sistemazione dei decreti ultimi ma io confermo l'impegno del presidente del consiglio e dell'intero governo a risolvere il problema in tempi molto brevi nei prossimi giorni sulla base delle indicazioni già concordate con il sindaco Orsoni assicuriamo i cittadini innanzitutto e le istituzioni che l'impegno del governo è confermato e verrà mantenuto se così non fosse la segreteria della funzione pubblica della CGL di Venezia si dice da subito non disposta a discutere tagli o ridimensionamenti del salario nel mirino del sindacato finisce l'amministrazione comunale accusata di avere precise responsabilità chiediamo e aspettiamo dicono che si riconoscano queste responsabilità con le coerenti decisioni conseguenti non escludiamo alcuna forma di lotta se la situazione non si sblocca e questi erano gli eventi più importanti della settimana che chiudono TG Venezia Mestre noi vi diamo appuntamento a domani vi auguro una buona serata arrivederci